Parliamo sempre di vino, non solo vino ma anche degustazioni di prodotti tipici e visite guidate per il tradizionale appuntamento con cantine aperte a San Martino, ieri in sette cantine pugliesi. Un rito che si ripete ogni anno organizzato dal Movimento Turismo del Vino Puglia con il contributo dell'assessorato regionale alle risorse agroalimentari. Vediamo il servizio. E' quasi un rituale per gli amanti pugliesi del vino, quello dell'apertura del frutto dell'ultima vendemmia. Anche nel 2013 l'appuntamento d'autunno del Movimento Turismo del Vino Puglia ha regalato a tutti gli appassionati una giornata davvero speciale, cantine aperte a San Martino. Tanti visitatori curiosi di provare la qualità del lavoro svolto durante l'ultima vendemmia direttamente in cantina. Sette in tutta la Puglia le aziende che hanno aderito a cantine aperte, iniziativa che si è svolta con il contributo dell'assessorato regionale alle risorse agroalimentari. Tenuta fuia nera alle porte di Foggia, Villa Schinosa, Trani, Terre di San Vito, Apolignano a Mare e nel Salento la cantina San Pietrana di San Pietro Vernotico, Apollonio di Monteroni e Aguagnano tenute Emera e Cosimo Torino. Non solo vino ma anche degustazioni di prodotti tipici, visite guidate ed attività che hanno accompagnato i wine lovers, letteralmente gli amanti del vino, per tutta la giornata e fino al tramonto direttamente nei luoghi di produzione. Partiamo da cantine aperte per poi andare al momento del vino novello che in qualche maniera rappresenta anche un momento importante per il sistema vitivinicolo. Dobbiamo anche incominciare a raccontare che il novello ha la sua importanza ma soprattutto fa parte di un circuito che continuiamo a voler valorizzare fortemente. È una tradizione che funziona, che attira molto l'attenzione della gente perché è un ottimo motivo per visitare le cantine, le nostre produzioni, assaggiare il prodotto nuovo che è sempre ben accetto e comunque le nostre produzioni che ormai hanno un ottimo riscontro a livello mondiale. Davvero notevoli le sale del museo del vino di Cantina e Mera e gli appassionati non si sono certo lasciati sfuggire l'occasione di ammirare da vicino alcune opere d'arte di notevole valore storico e di origini antichissime. Proprio da questo museo proviene il cratere a Campana Apula che è tuttora esposto a Roma, al Vittoriano. Fare il vino è un'opera d'arte in un certo senso, così come un po' un artista che utilizza i vari colori perché ha in mente un'opera d'arte, così noi quando facciamo il vino utilizziamo i vari vitigni perché abbiamo in mente di fare il vitigno migliore. Insomma un evento davvero speciale, come sempre molto atteso dagli anoturisti, quello di Cantina Aperte San Martino, alla sua quinta edizione consecutiva, la prima con questo nuovo brand che ha sostituito San Martino in Cantina. Gusto, profumi ed emozioni che solo un calice di vino riescono a dare. Parola di Wine Lovers. È una cosa bellissima, il posto è stupendo, atmosfera molto bella e il vino è veramente buono. È un'iniziativa importante anche perché fa sì che si conoscano i prodotti della nostra Puglia.